a tutti ragazzi buongiorno e benvenuti in questo video sono daniele ed oggi sono qua la prima tappa del primo giorno sono a fiume fiume in croazia è la prima città che si può vedere subito dopo l'italia fiume sono qua e sto scendendo per andare al mare venite con me che vi mostrerò questa bellissima spiaggia siamo arrivati scendiamo questi stalini vi devo dire che ho trovato la croazia piuttosto cara quest'anno io sono stato qua circa quattro anni fa ed i prezzi erano molto favorevoli insomma con il cambio con l'euro ma ad oggi che è entrata nella zona euro tutto è caro ho preso un caffè stamattina in una zona diciamo fuori residenziale ho speso più di un euro e 30 questa è la prima spiaggia che visito qua in croazia sono arrivato ieri sera ed oggi sono qua questa mattina ho deciso di fare un bagno per rinfrescarmi prima di riprendere il viaggio per partire e andare verso sud a scoprire nuove spiagge ho deciso così di fare questo bagno perché stamattina è uscito il sole siccome gli eri notte stava piovendo ed oggi è uscito il sole poi volevo anche rinfrescarmi scoprire un attimo questa spiaggia e meggermi in questo blu ragazzi stiamo prendendo il il ponte per andare sull'isola di krk oggi il passaggio è gratis secondo che è gratis se è free io è free si va mettiamo del gas ciao ragazzi buongiorno oggi siamo qua nell'isola di kak in croazia oggi sono qua con la mia piccola embarcazione purtroppo lasciato il superjet a viareggio in italia e sono venuto qua con questo gonfiabile come potete vedere almeno non sono più un fuori legge ma potrò insomma diciamo girare per le isole no dai a parte gli scherzi oggi sono qua in spiaggia a prendere un po di sole a rilassarmi perché insomma il viaggio è stato abbastanza lungo ieri sono partito giusto ieri cioè venerdì e sono arrivato ieri notte qua in croazia a flume esattamente ed oggi insomma un po di relax qua in spiaggia giusto per recuperare dal lungo viaggio e niente restate connessi che presto usciranno tanti altri video io farò diverse tappe al quale oggi sono in croazia poi domani sarò l'isola di pag e poi sarò scenderò piano piano giù fino bosnia albania e turchia anche la grecia quindi se vi piace viaggiare anche a voi restate connessi che ci saranno tante novità ciao ragazzi se molte volte molte volte mi domandate per quale motivo viaggio molto mi domandate se viaggio per lavoro ma in realtà per me è una passione questo viaggiare ho iniziato praticamente all'esa all'età di 16 anni a viaggiare e viaggiavo perché correvo con le moto da cross da quel momento è diventata una passione per me ho anche vissuto sei mesi in argentina e 18 anni da lì ho iniziato a viaggiare a fare viaggi anche più lunghi imparare nuove lingue quindi parlo inglese francese e spagnolo grazie a tutti